È una notte che ricorderà forse per sempre su Ria quella della partita contro l'Inter, un gol ed un assist sostanzialmente per il numero 87 del Monza, il primo gol è molto molto bello con un sinistro a giro che batte Onana, poi è veramente uno degli ultimi ad arrendersi, parte sempre dal suo mancino il cross per Cardirola che poi trova la deviazione di Dumfries per il gol del 2-2 Una prestazione sopra le righe, sicuramente per Ciurria uno dei migliori della squadra di Palladino, 7 e mezzo